Guardate ragazzi, qua il menù da Francesco, a Mostaria da Francesco in Piazza del Figo. Guardate un po' questo menù quanto è bello, guarda quanto è grande, una copertina importante. Adesso ve lo apro per farvi vedere, guardate, guarda che bello, ecco, molto bello, elegante. Adesso allargo l'immagine per farvi vedere anche il tavolo, guarda com'è apparecchiato, molto bene. Osteria da Francesco in Piazza del Figo.